Il primo a dirsi spiazzato è il sindaco Angelantonio Angarano, che parla di scelta in tempestiva e che non terrebbe conto delle esigenze del territorio. Neanche a lui evidentemente era stata prospettata la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Biceglie, decisa dalla giunta regionale con la delibera sul nuovo piano di riordino ospedaliero. Ora promette battaglia nelle sedi opportune ed ha anche un consiglio comunale monotematico, ma la sensazione che sia ormai troppo tardi per invertire la rotta. A Biceglie non si nascerà più esattamente come da 15 anni a questa parte avviene a Trani. Chi vorrà partorire nella sesta provincia pugliese potrà farlo solo negli ospedali di Andrea e Barletta. Nel nuovo piano di riordino il Vittorio Emanuele II è stato classificato ospedale di base ed il timore dei cittadini di Biceglie è che la chiusura del punto nascita possa essere solo il primo passo verso un progressivo smantellamento della struttura sanitaria. Ad allontanare questa prospettiva il direttore generale della ASL BT Alessandro Delle Donne ricordando l'attivazione di 5 nuovi posti letto in chirurgia e di altrettanti in ortopedia, l'entrata in funzione di una unità operativa di pneumologia e di 12 posti letto di endocrinologia. Dalla ASL spiegano anche che per tutti gli ospedali in cui si registrano meno di mille parti all'anno e a Biceglie se ne calcolano circa 500, il Ministero della Salute ha previsto la chiusura dei punti nascita. Il nuovo segretario della CGL BAT Biagio D'Alberto rincara la dose evidenziando che a questo territorio è stato riservato anche un altro boccone amaro. Dei 1600 nuovi posti letto previsti in più rispetto al precedente piano di riordino dedicati ad acuzzi e riabilitazione e lungodegenza nessuno sarà istituito nella BAT. A Biceglie intanto l'argomento è diventato oggetto di dibattito politico e di contrapposizione tra il sindaco Angarano e le minoranze consigliari con il primo cittadino accusato di aver assunto un ruolo passivo nell'intera vicenda. Chi promette di portare la questione in Parlamento è invece l'onorevole PD Francesco Boccia che intende chiedere spiegazioni direttamente al Ministro della Sanità Giulia Grillo. Ci sono centinaia di ospedali che non raggiungono i mille parti, ha aggiunto Boccia, ma non per questo hanno subito la cancellazione del punto nascita.